Niente penne, radio oppure giornali, niente conversazioni politiche, visite una volta al mese. Non azzardarti a ignorare di nuovo la mia campana! Potrei anche abituarci. Non le buttate tra le mie! Qualunque cosa che ha, non degli arretti. Ho sentito parlare di voi. Quanti anni? A 8. Non vogliamo restare così tanto. Quanti anni? Quanti anni? Quanti anni? No, no, diritto, è una soledà. Per il soldo di vostro carico, ti ha portato con l'alessa, ti utilizza la tua parte, dove c'è il mio oggettivo, con il mio volante accesso. Mi piace. Se mi scoprono, mi daranno altri 25 anni, oppure una pallone alla testa. Fermi. Questa cosa è? Questa cosa è? Questa cosa è? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info